Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura parliamo del caso Maxim, il bambino di 5 anni che è stato soffocato nel luglio del 2014. Quello di oggi era il giorno della sentenza da parte del Gup di Pescara. Ebbene, libertà vigilata per i prossimi 10 anni, condanna ad un anno di reclusione con pena sospesa per falso in concorso e assoluzione dall'accusa di omicidio in quanto non punibile perché giudicato incapace di intendere e di volere all'epoca dei fatti. E' appunto la sentenza emessa oggi dal Gup di Pescara e Nicola Colantonio a carico di Massimo Maravalle, il tecnico informatico affetto da disturbo psicotico atipico che la notte tra il 17 e il 18 luglio del 2014 soffocò nel sonno il figlio adottivo di 5 anni, Maxim, all'interno del suo appartamento a Pescara. Vediamo. Assolto perché non punibile in quanto incapace di intendere e di volere all'epoca dei fatti. Un anno di reclusione per il reato di falso in concorso pena sospesa, libertà vigilata per 10 anni. E' quanto deciso dal Gup del Tribunale di Pescara Nicola Colantonio a carico di Massimo Maravalle, il tecnico informatico di 48 anni affetto da disturbo psicotico atipico che la notte tra il 17 e il 18 luglio del 2014 uccise nel sonno il figlio adottivo di 5 anni, Maxim, di origine russa. Maravalle, difeso dall'avvocato Giuliano Milia, è stato giudicato con il rito abbreviato. Patrizia Silvestri, madre adottiva di Maxima e moglie di Maravalli, Giuliana Iachini, medico del servizio di medicina legale del lavoro dell'Asla di Pescara e Fabio Panzieri, medico di base, sono stati invece rinviati a giudizio per il reato di falso in concorso. Il processo a carico dei tre prenderà il via il 27 di aprile prossimo davanti alla corte d'assise di Chieti. Era stato lo stesso PM Andrea Papalia a chiedere l'assoluzione di Maravalle dal reato di omicidio in quanto, secondo la perizia dello psichiatra Renato Ariatti, all'epoca dei fatti il tecnico informatico versava per infermità in condizioni di totale esclusione dalla capacità di intendere e di volere. Inoltre il Gup ha fissato per il 24 marzo prossimo alle 10 l'udienza di verifica periodica della pericolosità sociale di Maravalle. Per quanto riguarda invece il reato di falso, secondo l'accusa, Maravalle e la moglie, relativamente alla dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale presentata al Tribunale dei minorenni dell'Aquila, avrebbero omesso di riferire e fornire notizie sui disturbi e sulla patologia psichiatrica di Maravalle. I due medici, sempre secondo l'accusa, avrebbero invece attestato che il padre di Maxime era esente da difetti fisici e psichici, omettendo di rilevare l'esistenza di patologie. Una sentenza che indubbiamente così com'è non ci attendevamo, sia perché c'è un rinvio alla Corte di Assisi che ad un primo approccio ci appare completamente fuori luogo e sia perché ritenevamo che ci fossero tutti i presupposti per il falso, almeno per quanto riguarda la mia assistita Patrizia Silvestri, tutti i presupposti per il non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste e anche il reato. Io non credo che sia un caso che si risolve nelle aule giudiziarie, è un caso purtroppo che non doveva succedere, è un caso forse che va approfondito nelle sedi opportune, tant'è vero che mi risulta che le procedure siano state rinforzate, rafforzate. Purtroppo in Italia succede sempre che i casi tragici fanno sì che i protocolli vengano dotati dopo e non prima. Se questi certificati medici in qualche passaggio procedimentale si siano persi e in quale, questo non spetta mai dirlo. Cambiamo pagina, il Presidente della Regione D'Alfonso annuncia l'avvio di lavori per potenziare l'aeroporto internazionale d'Abruzzo, si tratta di interventi di ampliamento strutturale da un lato e di messa in sicurezza delle piste dall'altro. Sul caso Ryanair invece ha annunciato il proseguimento delle trattative con il colosso low cost per evitare il taglio dei collegamenti da Pescara. La notizia è quella di un intervento organico di rigenerazione, così la definisce il Presidente D'Alfonso. I lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Landside e dell'Airside dell'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo, compreso un ampliamento dell'area commerciale e il passaggio da 3 a 5 gate. Lavori che verranno ultimati entro il 2016, notizia che arriva ad una settimana esatta dall'annuncio di Ryanair di abbandonare la base di Pescara. Noi qui stiamo investendo 9 milioni di euro per la messa in sicurezza, per l'efficientamento, per il rinnovamento strutturale di questo sedime europortuale. Questo per renderlo anche bersaglio di investimenti ulteriori, di vettori che vogliono garantire ulteriore connettività all'Abruzzo, verso l'Italia e verso il mondo. Noi ci tenevamo, abbiamo rispettato il cronoprogramma, al 31 di dicembre avevamo tutti gli obblighi giuridicamente vincolanti. Sono anche contento per le imprese e i risultati aggiudicatari, poiché hanno la forza di assumere anche impegni immorali verso l'aeroporto d'Abruzzo, a favore dell'Abruzzo nei confronti del mondo. Sono convinto che presto cominceranno le tute degli operai a sporcarsi di cemento per fare le opere che occorrono a questa infrastruttura aeroportuale. L'Abruzzo può rinunciare a Ryanair? Assolutamente no, ci lavoriamo nel rispetto delle regole e delle leggi, sapendo che ci sono tre vincoli, il vincolo di bilancio della Regione Abruzzo, il vincolo del quadro normativo nazionale e quello del quadro normativo europeo. Io dopo domani parlo col Ministro del Rio anche di questo problema, di una revisione della normativa in questa direzione. Dobbiamo avere agibilità per evitare di avere guai e di produrre connettività. C'è una strada per confermare la connessione aeroportuale con il mondo senza che questo produca ferite alla rilettura postuma fra due o tre anni, come purtroppo è accaduto in qualche sedime aeroportuale italiano. Giro di vite sugli scarichi abusivi nel fiume Pescara. Il Presidente della Regione D'Alfonso ha convocato i sindaci proprio della Val Pescara e ha lanciato l'idea degli ispettori nei cantieri di efficientamento dei depuratori ACA. Scarichi abusivi nel fiume Pescara in diminuzione rispetto al 1989. Infatti sono 48 gli scarichi nel fiume Pescara mappati dall'Università d'Annunzio con uno studio commissionato dalla Regione. Meno dei 116 censiti. Nello 1989, anno in cui la Regione avviò una costosa campagna di ricognizione degli sversamenti illeciti. Il Presidente della Regione Abruzzo, che ieri ha incontrato i sindaci dei comuni che insistono lungo l'asta fluviale del Pescara, Scafa, Chieti, Rosciano, Cepagatti, Manopello, Alanno, Spoltore, Turri Valignani, Torre dei Passeri, Castiglione a Casaria e Pescara, ha sollecitato i comuni a farsi promotori di una ulteriore attività ricognitiva sulla presenza di infrastrutture deputate al ciclo delle acque e di manifestare eventuali carenze. Nel corso dell'incontro il Presidente D'Alfonso ha poi annunciato un giro di vite sugli scarichi abusivi e l'attivazione di una custodia visiva dei cantieri che saranno aperti a breve dalle società aggiudicatarie dei lavori di efficientamento di 15 depuratori, lavori appaltati da AH grazie ad un finanziamento della Regione Abruzzo pari a 36 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Avezzano ha denunciato a pieno di libero 117 persone al termine di una inchiesta partita nell'ottobre del 2013 volta a reprimere varie tipologie di frode alle contribuzioni pubbliche nel settore agricolo è nata su specifici input informativi forniti dal nucleo spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della finanza. I controlli hanno permesso di accertare le irregolarità ipotizzate e l'erogazione di sanzioni amministrative per 250 mila euro. Le 117 persone denunciate devono rispondere delle ipotesi di reato di falsità ideologica in atto pubblico commessa da privato o di truffa o di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il servizio è stato svolto sotto la direzione e il coordinamento del Procuratore della Repubblica di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato. La rifondazione comunista denuncia il taglio dei finanziamenti della regione per le borse lavoro dei pazienti psichici. Secondo Maurizio Acerbo i danni causati dall'inattività dei pazienti costeranno alle casse regionali più dei tagli annunciati in questi giorni ai 300 pazienti. Allarme disabili psichici in Abruzzo. La notizia riguarda le borse lavoro introdotte dal 2000 nella nostra regione finalizzate a occupare i pazienti presso enti pubblici con mansioni capaci di rendere la loro quotidianità perfettamente integrata nel sistema lavorativo. 300 persone, questo è il numero di borse finanziato dalla regione che di recente tramite missiva ha comunicato la loro interruzione. Le famiglie e i pazienti stanno ricevendo lettere dai servizi in cui gli si dice che quella esperienza non prosegue oltre una determinata data perché non è stata rifinanziata. Questo crea un'enorme agitazione nei pazienti e nei loro familiari perché significa mettere in discussione percorsi di riabilitazione che vedono proprio nella borsa lavoro l'esito conclusivo di reinserimento in un contesto sociale e quindi anche la possibilità di coronare un percorso che le persone fanno di battaglia nei confronti del disagio che vivono. Una grave mancanza da parte della regione, secondo Acerbo, che sottolinea come la cronicizzazione di tali pazienti potrebbe costare molto caro alla regione senza considerare l'importante valore umano dell'integrazione per persone che in assenza di stimoli esterni potrebbero vedere riacuirsi la propria patologia. E probabilmente si sta procedendo in maniera ragionieristica non rendendosi conto che tutti coloro che andranno di nuovo in crisi si cronicizzeranno e andranno presso strutture e costeranno molto ma molto ma molto di più di una borsa lavoro. Quindi io invito la regione, l'aggiunta, il commissario della sanità D'Alfonso, l'assessore della sanità, gli stessi consiglieri a attivarsi, anzi direi di più. In Abruzzo ci sono solo 300 borse lavoro per quel che mi risulta, mi sembra che siano molto poche, ci sono tanti pazienti che attendevano la possibilità di avere accesso alle borse lavoro. Siccome è un'esperienza che ha funzionato e su questo gli esperti sono tutti d'accordo, cerchiamo di implementarla. Le province di Chieti e Pescara sperimentano l'area vasta voluta dalla legge del Rio e mettono insieme i propri servizi al di là dei campanili. Il tentativo è quello di aggiornare il sistema provincia garantendo servizi migliori ai cittadini. Un accordo di programma finalizzato allo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni attribuite alle province di Chieti e Pescara e quello firmato ieri nella sala del Consiglio Provinciale di Pescara durante la riunione congiunta dei Consigli Provinciali di Pescara e Chieti. Alla firma erano presenti i presidenti delle province Antonio Di Marco e Mario Pupillo assieme ad una nutrita rappresentanza di consiglieri e dirigenti dei due enti. Ma come si procederà da questo momento in poi? Lo ascoltiamo dalle parole dei due presidenti. Soprattutto metteremo insieme i nostri servizi e tra questi i primi che vorremmo istituire sono quelli dei servizi informatici attraverso anche un protocollo d'intesa che abbiamo firmato insieme all'ARIT che è la società regionale che gestisce i sistemi informatici. Quindi uniformare già il linguaggio nostro informatico è fondamentale e quindi questo potrebbe anche riverberare sui comuni sia dalla provincia di Chieti e di Pescara quando andremo a regime e il resto poi andremo a valutare. Ovviamente ci sono delle carenze nell'una e nell'altra provincia quindi di personale, di dirigenti e tutto questo serve per armonizzare e disegnare quell'area vasta che la legge del Rio ci suggerisce. Con Chieti e con Mario Pupillo in particolare abbiamo una condivisione di intenti molto accelerati tant'è vero che le nostre intenzioni sono anche quelle di poter arrivare anche se non subito attendendo qualche mese per esempio ad avere un unico settore ed isia scolastica che possa gestire le due realtà territoriali, avere un unico settore che sia quello dell'ambiente come sapete il fiume Pescara abbraccia sia Chieti che Pescara ed è abbastanza sintomatico di un sistema che va superato. L'esempio di questa unione di servizi messo in campo da Chieti e Pescara è stato portato anche a livello nazionale all'attenzione del lupi, l'unione delle province italiane e del presidente del consiglio Matteo Renzi. Le province italiane sono pronte a definire esattamente cosa si intende per aree vaste e quindi noi vogliamo che siano i consigli provinciali a decidere le aree di competenza delle aree vaste e non invece l'imposizione che può arrivare dal governo o addirittura dalla regione. Il segretario provinciale dell'Aquila della CGL Umberto Trasatti esibisce i dati dell'Inps che attestano un meno 20% degli assegni per oltre 100.000 pensionati delle aree interne della provincia. Umberto Trasatti, segretario provinciale della CGL L'Aquila. La CGL da mesi invoca l'apertura di un tavolo per riconoscere l'area interna dell'Aquilano che sono il 95% dell'area interna dell'intera regione come area di crisi. Oggi voi insistete anche sul fatto che c'è un altissimo tasso di pensionati che hanno le pensioni molto basse. Quali sono i numeri di questa ulteriore emergenza che quindi non riguarda solo lavoratori e cassi integrati? Il bilancio sociale dell'Inps è presentato qualche mese fa, ancora una volta ha certificato che nella provincia dell'Aquila abbiamo circa 100.000 pensionati con un livello di pensione media di 599 euro. Circa il 20% è inferiore alla media regionale. Questo è un ulteriore dato che certifica in qualche modo le difficoltà delle aree interne e dentro il problema delle aree interne la provincia dell'Aquila rappresenta davvero oltre il 90%. Quindi abbiamo inteso con le altre organizzazioni sindacali avviare un confronto con le segretarie regionali CGL e Cisleguille per aprire un'avvertenza delle aree interne. Si sono chiesti i tavoli di confronto per affrontare in qualche modo i problemi legati alle aree di crisi. Ma qual è la risposta da parte della Regione? La Regione ha dato disponibilità ad avviare subito un confronto, si è iniziato con le aree di crisi e purtroppo i nostri territori vivono una condizione di crisi drammatica certificata anche qui da dati non solo di disoccupazione ma anche dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Quali saranno gli effetti concreti per pensionati con la minima, per cassi integrati, per disoccupati con il riconoscimento di un'area di crisi, vantaggi concreti? Il problema è questo, che quando si parla di aree di crisi bisogna mettere in campo interventi non solo a sostegno delle attività produttive e qui si sta facendo un ragionamento con la Regione Abruzzo ma anche qua gli interventi necessari a garantire una qualità dei servizi efficace perché sono necessariamente lo strumento per evitare o per arrestare un lento ma inesorabile spopolamento delle aree interne. Il Comune di Giulianova presenta, grazie alla collaborazione con la Ecote di Gestore Unico dei Rifiuti, il nuovo sito web e la nuova applicazione per smartphone. Semplificazione e trasparenza soprattutto per la raccolta differenziata nel Comune di Giulianova? Assolutamente sì. Quello che volevamo è che ci fossero dei servizi sempre maggiori, sempre più vicini ai cittadini. È importante informarli delle novità, è importante che ci siano delle alternative rispetto allo sportello Infopoint che rimarrà sempre aperto come lo è stato fino ad oggi per il contatto con i cittadini, per tutte quelle necessità che non sono risolvibili tramite un sito o tramite un'applicazione. Come funziona l'app? L'app è molto semplice, è su piattaforma sia Android che iOS, riporta una schermata molto semplice con indicazioni dei calendari, indicazioni dello spazzamento, dove si fa lo spazzamento e in quale strada è possibile vederlo, con un'indicazione addirittura geotaggata sulle informazioni, cioè voglio segnalare un mancato ritiro, un rifiuto abbandonato o quant'altro. posso individuare le coordinate, semplicemente toccando un riquadro, indicare con una mail quelle che sono le segnalazioni ulteriori rispetto all'eventuale indicazione sull'applicazione e ovviamente dovrà essere poi individuato il soggetto che fa la segnalazione. Quindi ci sarà una email attraverso la quale verrà inviata la segnalazione con l'applicazione. Si possono anche allegare fotografie, cioè non soltanto segnalo geotaggando il luogo dove c'è la circostanza non conforme, ma posso anche fare una fotografia ed inviarla. Questo a disposizione dei più smaliziati con la tecnologia, ma oramai lo siamo quasi tutti. Io debbo ringraziare per questo ulteriore servizio il gestore unico, e quindi l'avvocato Ranalli che stamane insieme a noi, insieme all'assessore Ruffini, presenta questo nuovo servizio. E' quello che noi ci eravamo impegnati di fare quando il primo aprile del 2015, non un'era geologica fa, ma meno di un anno fa, è entrato in servizio il gestore unico dei rifiuti. Questa collaborazione e sinergia con Ecotedi sta dando dei grandi risultati. E questo solo ed esclusivamente è a vantaggio dei cittadini. E di questo ringrazio la squadra che ci sta lavorando. La strada Parco torna al comune di Pescara, ma fino al 30 di aprile. Dunque il tracciato della futura filovia, tanto contestata in passato, tornerà il mercato rionale. La tua società di trasporto unico locale ha riconsegnato ufficialmente al comune di Pescara la strada Parco, dove dovrebbe transitare in futuro un mezzo per il trasporto locale, fino al prossimo 30 di aprile. Nel corso dell'incontro tenutosi a Palazzo di Città, il sindaco Marco Alessandrini e il presidente della tua Luciano D'Amico hanno spiegato i termini dell'accordo. Poi, sul progetto della eventuale filovia, o comunque sul passaggio di un mezzo leggero nella strada Parco, il presidente della tua Luciano D'Amico ha dichiarato che si stanno facendo gli ultimi approfondimenti rispetto all'individuazione del mezzo che dovrà consentire a Pescara un sistema di trasporto pubblico locale ad alta capacità e ad alta efficienza. Il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha poi aggiunto che la strada Parco tornerà ad ospitare, come era in passato, il mercato rionale fino al 30 aprile. Poi bisognerà verificare le condizioni dell'appalto dell'opera di trasporto pubblico che dovrebbe riprendere dal 1 maggio e, in caso negativo, bisognerà valutare un'ipotesi di proroga della riconsegna delle aree. A margine dell'incontro, il presidente della tua D'Amico ha detto che nella domenica ecologica ultima sono stati staccati con il biglietto unico a disposizione dei cittadini per l'intera giornata 1.650 tagliandi. Il presidente della Gran Sasso Terramano, Marco Bacchion, Gran Sasso Terramano che gestisce gli impianti di prati editivo, al nostro microfono parla del risanamento dell'azienda e annuncia i nuovi investimenti della stazione scistica. Da quando ci siamo insediati abbiamo perseguito questo che era il problema vitale per la società, la sistemazione di un debito di oltre 12 milioni che siamo riusciti a riportare e a ridurre a soli 8 milioni. Quindi noi adesso abbiamo una società, restituiamo al territorio, una società finanziariamente sana, senza un euro di debito e con un patrimonio costituito dagli impianti di risalita che ammonta svariati milioni di euro. Abbiamo acquistato recentemente dalla ex sangritana Oggi Tua un tappeto mobile che verrà adibito a scuola, a campo scuola. È una richiesta pressante che noi abbiamo ricevuto dai maestri di sci e che permetterà anche l'utilizzo di un parco giochi anche l'estate. Noi intanto abbiamo assicurato per i prossimi 5 anni l'incasso di un canone per la gestione degli impianti. Stiamo perfezionando il contratto con il consorzio aggiudicatario. Questo ci permetterà di beneficiare di 170 mila euro, 150 più IVA che comunque costituirà una base su cui poter contare anche per quelli che sono i futuri investimenti. Ma soprattutto il ripiano del nostro bilancio ci permetterà di accedere al credito bancario. A Milano dall'11 al 13 febbraio i comuni di Campi, Civitella e Castelli fanno rete per la promozione territoriale. Itinerari virtuali, degustazioni guidate, incontri allo stand che si propone come un museo diffuso. I comuni di Campi, Castelli e Civitella fanno rete per la promozione territoriale e con il supporto del consorzio BIM di Teramo partecipano per la prima volta insieme a BIT 2016, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma dall'11 al 13 febbraio a Milano. È un lungo discorso che iniziai l'anno scorso dicendo ai comuni di fare il sistema fra di loro e di fare le rete. Ho cercato di metterli d'accordo questi tre comuni e il BIM fa da capofila per questa manifestazione. Questo è l'inizio perché un altro anno giustamente invece di tre perché non sei, perché non nove. Bisogna lavorarci. Il BIM è un valore aggiunto al territorio e questa ne è la dimostrazione. All'interno di una strategia promozionale comune che fa leva sul comprensorio, ciascun comune metterà in campo le proprie specificità per incantare i visitatori. Campli si presenterà come un museo diffuso tra cielo e terra, con i suoi percorsi dello spirito nell'anno del Giubileo, la Scala Santa, la Cattedrale di Santa Maria in Platea, il Cammino del Perdono. I principali monumenti e luoghi di interesse potranno essere visitati virtualmente grazie all'associazione AIQR Code. Civitella schiera la Fortezza Borbonica, il monumento più visitato d'Abruzzo e il fascino del borgo fortificato attraverso le vicende di fanti e santi che vi hanno dimorato nei secoli. In particolare presenteremo a tutti gli avventori della BIT una novità importante, nel senso che sarà presentato il virtual tour della Fortezza di Civitella, che è una bella chicca che presenteremo per la prima volta alla BIT, ma prossimamente lo porteremo agli onori della cronaca, insomma, a un po' di tutti. Castelli, patria della ceramica, si promuove con la sua grande tradizione artigianale attraverso un'esposizione di pregiate maioliche ed esclusive chicchere nello spazio espositivo. Quest'anno partecipiamo insieme a altre due eccellenze abruzzesi, quindi Civitella e Campli, uno spazio un po' più grande per poter esporre sia dei manufatti tipici di Castelli, materiale pubblicitario, sono dei video, quindi Castelli che ha tante eccellenze turistiche, esporre sia culturali, ambientali e storiche, è presente in questa fiera che sia per operatori al settore ma anche per semplici avventori. Ed ora apriamo la pagina sportiva e parliamo di Pescara, ma anche del prossimo avversario del Pescara, ovvero il Vicenza che oggi ha svolto regolare seduta a Isola Vicentina. Ancora problemi per il portiere Vigorito e per l'ex lancianese Pinato, mentre tornerà a disposizione l'attaccante esterno Galano. Domani la squadra partirà con un giorno d'anticipo, destinazione Abruzzo, per preparare una gara molto delicata anche dopo la sconfitta inopinata interna contro la Virtus Lanciano di sabato scorso. Per il Pescara invece sarà una partita da affrontare quasi in emergenza, perché sono arrivate le scolifiche di Verre, Mandragora e Caprari, tutti fermati per un turno. Mancheranno Crescensi e Campagnaro per infortunio, ma quasi certamente ci sarà anche il forfè di uno degli ultimi arrivati, ovvero il centrale Andrea Coda. Dovrebbe recuperare invece Antonio Mazzotta. Oggi ha parlato il tecnico Massimo Oddo, ha parlato delle scelte dell'ultima partita a Salerno, ha provato a respingere le critiche, ha parlato anche della vicenda Lapadula, corteggiato dalla Nazionale del Perù. Mazzotta era un buon giocatore di Serie B, Lapadula potrebbe essere un grande giocatore di Serie A, c'è una differenza abissale, quindi sicuramente Mazzotta non avrebbe mai potuto ambire la Nazionale italiana, la Lapadula secondo me lo può fare. Per quello che ti dico, per lui probabilmente per Mazzotta è stata un'esperienza incredibile, un'opportunità incredibile perché ha avuto modo di giocare in un Nazionale, cosa che non avrebbe potuto fare per una Nazionale italiana. La Lapadula secondo me lo può fare, lo potrà fare se continuerà questa crescita costante, quindi laddove io vedo un'opportunità di giocare, di avere una chance, quantomeno per una Nazionale dell'importanza di quella italiana, oltretutto lui ha detto di sentirsi italiano, io aspetterei un attimino. Se un allenatore azzeccasse tutte le formazioni avrebbe 186 punti a fine campionato, o se azzeccasse tutte le sostituzioni. Quindi siccome tutti sono umani, non è una macchina, non è una catena di produzione, ma è comunque una serie di scelte fatte sulla base di tante cose che vedi in settimane, a volte si sbaglia la formazione, a volte si pensa che un giocatore possa essere adatto e non rende per quanto uno pensa, e non è il caso di Mandragola, perché Mandragola ha fatto anche una buona partita, ha messo anche qualche pezza dietro. O non si può immaginare che un giocatore come Caprari, ad esempio, faccia la sua venticinquesima partita da otto, ci può stare pure che ne faccia una da sei e mezzo, perché secondo me non è una partita assolutamente insufficiente quella di Caprari, dopo che ha messo un assist goal e ne ha messi altri due nel secondo tempo. Le cose che non sono andate sono le solite cose nostre, eravamo lunghi. Eravamo molto lunghi, questo non vuol dire che quando sei lungo lo devi essere da dietro, ma lo devi essere anche da davanti. Quindi a volte quando si soffre e si sta un po' indietro perché gli altri magari ti mettono 180 palloni lunghi, tu devi andare per forza dietro in quel momento, devi correre indietro in tutti quanti. E quindi la squadra si accorcia da dietro, ma si accorcia anche da davanti. Per quanto riguarda la Virtus Lanciano, oggi doppia seduta al Memmo, è tornato a lavorare Guido Marilungo, che era rimasto fermo ieri per una sindrome influenzale, invece fermo ancora per problemi intestinali. L'altro attaccante, King Yudo, sta invece lavorando in maniera personalizzata all'esterno Salviato, che ha saltato per infortunio muscolare la trasferta di Vicenza. Poi nel tardo pomeriggio sono stati presentati i nuovi giocatori, gli ultimi arrivati perlomeno in ordine cronologico nel mercato. Nelle prossime edizioni del TG6 parleremo diffusamente della loro presentazione. Scendiamo ora in Lega Pro, parliamo di Teramo e dell'esterno Luca Cecchini, che ha parlato in conferenza stampa nel momento della squadra e del suo momento. Un giocatore che è stato impiegato con maggiore continuità nella prima parte della stagione, ora però sta giocando di meno per via anche delle buone prove di Di Paolo Antonio sulla fascia sinistra. Sì, io non c'ero e comunque è ovvio che si avvertiva una certa emozione, diciamo, soprattutto negli occhi di alcuni compagni. È normale che qualcuno la provava, questa emozione, però ormai è passato, quindi bisognava dar tutto sul campo per questa partita, che è un nuovo campionato e quindi il passato adesso purtroppo è passato. Caratterialmente riusciamo a gestire meglio le partite, penso. Anche l'arrivo dei nuovi ha portato più grinta, più carattere. Non ci abbattiamo, se subiamo dei gol riusciamo a recuperare, quindi qualcosa sicuramente nella testa è cambiato. Vabbè, ora sto giocando di meno, comunque subentro, quindi è normale che qualsiasi calciatore vorrebbe giocare sempre titolare dall'inizio, però sono al servizio della squadra, sono rimasto qua fino alla fine e quindi cercherò di dare il massimo, anche subentrando, che siano 5, 10, 20 minuti, non è un problema perché l'obiettivo adesso è comune di squadra, non è personale. Sì, Coppa Italia è importante, soprattutto per chi ha avuto meno spazio, quindi dobbiamo cercare di fare al meglio per dimostrare al mister che siamo sul pezzo, che anche noi possiamo meritarci, cioè tutti noi possiamo meritarci una chance da titolari, quindi sarà fondamentale fare bene. Poi comunque vincere aiuta a vincere, è sempre una gioia personale, quindi andiamo là sicuramente per fare una bella partita. Teramo che appunto giovedì giocherà alle ore 15 a Siena per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Robur, domani si attendrà invece il giudizio da parte della Corte federale ed appello circa un'eventuale revisione della penalizzazione. Il giudice sportivo oggi si è pronunciato e ha squalificato per una giornata all'esterno Mora della Spalla, che dunque salterà la partita all'Aquila Spalla di sabato prossimo. Due giornate di squalifica per il vice allenatore del Tutto Cuoio, Vanigli, ma tornerà in panchina dopo la lunga squalifica l'allenatore Lucarelli in occasione di Teramo Tutto Cuoio. 1.500 euro di ammenda poi per l'Aquila Calcio. Poi ci sono le designazioni arbitrali, Teramo Tutto Cuoio sarà affidata a Vincenzo Fiorini di Frosinone, l'Aquila Spalla a Daniele Amabile della sezione di Vicenza. A proposito dell'Aquila Calcio, nella giornata di ieri sono tornati a correre i difensori Maccarrone e Di Mercurio, fermi per infortunio da quasi un mese. Intanto sul fronte societario si è raffreddata la trattativa per la vendita delle quote ad una accordata di imprenditori romani. L'Aquila di Perrone si prepara al secondo impegno consecutivo in casa in programma sabato contro la capolista Spalla. Intanto arrivano buone notizie dall'infermeria, il centrale difensivo Giordano Maccarrone è tornato a correre dopo aver smaltito lo strappo muscolare di oltre tre settimane fa. Buone notizie arrivano anche sul conto del terzino siciliano Dennis Di Mercurio, che da ieri ha iniziato a svolgere uno specifico lavoro atletico sul campo. Non si è invece allenato il difensore ex Pescara Emanuele Pesoli a causa di un attacco febbrile. Si è vociferato intanto sul fronte societario del possibile acquisto di quote dell'Aquila Calcio da parte di una accordata di imprenditori romani, tra cui l'ex vicepresidente del Martina Franca Enrico Folgori. Nella giornata di mercoledì scorso c'era stato anche un primo incontro interlocutorio a cui avevano partecipato i vertici rosso-blu e i rappresentanti della accordata. Nelle ultime ore però la trattativa sembra essersi arenata. Il club aquilano pagherà autonomamente la scadenza del 16 febbraio e ha intenzione di andare avanti senza l'aiuto di imprenditori di fuori. In compenso si proverà a coinvolgere maggiormente Eliseo Iannini, rientrato in autunno nel sodalizio aquilano come main sponsor. Intanto per quanto riguarda il processo sul calcio scommessa, è stato formalmente presentato l'appello contro la decisione della Tribunale Nazionale Federale, che la scorsa settimana ha inflitto 13 punti di penalità al club rosso-blu. L'aquila sarà difesa dagli avvocati Flavia Tortorella e Carlo Celani, membro effettivo della Corte Federale della Federazione Golf. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera, il doppio appuntamento con la Lega Pro a partire dalle ore 21 pro Teramo di Jacopo Forcella, una puntata davvero speciale, ospite l'ex direttore sportivo del Teramo Marcello Di Giuseppe che romperà un silenzio che perdura da circa nove mesi. A seguire sarà il turno di Pro L'Aquila e vi lascio proprio al TG6 L'Aquila. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per la visione!